ormai ormai sono più del luna siamo qui tutti riuniti in questa camera d'albergo con una merda di televisione uno specchio Vincenzo che è riuscito dal bagnale ad accabere l'acqua le olie la professoressa culisano che sta girando da mezz'ora da mezz'ora ti piacerebbe 2 o 3 o 4 ore e non dormirò mai davanti a dirlo fino a domani mattina andiamo a vedere questo buco io chiamerei eccesso o latrina e qui io mi dovrei fare la doccia ma anche il stato di degrado viviamo noi che siamo una democrazia noi che abbiamo un governo Berlusconi le ultime cose, attenzione, telefono telefono Vincenzo si vinta non 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 non